L'amore che nasce dal dolore. Amare significa non solo vedere il partner nel suo essere così e non diversamente da così, ma vedere in lui qualcosa di più, le sue possibilità di divenire. Il suo poter essere significa non solo vederlo per quello che veramente è, ma soprattutto per quello che lei o lui può e deve diventare. In altre parole, secondo una bella espressione di Dostoyevsky, amare significa vedere l'altro così come Dio l'ha ideato, di Victor e Frank. Ed io vi aggiungo. Dopo il nulla del non-amore, finalmente l'amore nasce. Ci vuole del tempo perché si manifesti nella sua completezza. occorre che l'anima cresca in coscienza per poter apprezzare quel tipo d'amore. L'amore è il prodotto della conoscenza e del bisogno di completezza che ogni essere vivente possiede. L'emozione dell'amore è pronta a manifestarsi come tutte le altre emozioni, così come l'emozione del volo libero esiste nel canarino in gabbia. Lui conosce il voletto. Non sa com'è l'emozione del volo, ma è dentro di lui. L'emozione dell'amore è dentro di noi e quindi dobbiamo aiutare l'amore ad emozionarci. L'amore è il mezzo attraverso il quale tutte le leggi si applicano. L'amore sulla Terra è di tipo istintivo. È raro trovare sulla Terra un amore spirituale. Vi possono essere degli amori profondi. Le anime possono vibrare insieme, ma non è ancora l'amore. È l'unico amore che vi è permesso di provare. Innamoramento, passione, gelosia, fedeltà, istinti, ansia, tradimenti, sopravvivenza. Nelle dimensioni superiori l'amore permea il tutto. L'unicità dell'essere è il motivo della separazione per il quale vi sono anime che si amano più delle altre. Perché vibrano sulla stessa frequenza. Dicasi affinità elettive, dicasi anime gemelle. Grazie. Grazie.